Quando vi dicono il geranio allontana via le zanzare, le tiene distanti da casa, certo, come no? Guardate quante uova ci sono all'interno di questa bacinella, vedete? E qua sotto, le vedete le larve? È pieno di larve, ma non c'è problema, queste larve finiranno tutte in pasto e in pesciullino all'acquario. Questo è un contenitore dove avevo messo dei gerani a radicare nell'acqua per qualche giorno, ma ahimè, si è rivelato una tana, un nido, una radottissima zanzare.